Più 20% in un anno e l'aumento degli infortuni sul lavoro in Veneto nel 2022 rispetto all'anno precedente. Maglia Nera, la provincia di Venezia, più 34%. Il dato è certamente influenzato dalla ripresa produttiva dopo la frenata dovuta alla pandemia da Covid, ma anche considerando un arco di tempo più esteso emerge una categoria di imprese che non dà cenni di miglioramento. Le aziende artigiane difficilmente riescono da sole a modificare sistemi di lavoro produttivi che negli ultimi 5 anni presi ad esame attraverso i dati INAIL non ha subito nessuna flessione, nessuna contrazione del fenomeno infortunistico. È un ambito nel quale l'impresa è piccola e piccolissima, il lavoro da fare proprio sulla cultura della sicurezza è profondo. Da questa considerazione è nata una guida operativa per i settori edile, meccanico e della moda, elaborata con il contributo dell'INAIL, degli organismi paritetici del settore artigiano e con il coordinamento di uno spin-off dell'Università Ca' Foscari. Questa guida operativa che è costituita per l'appunto di una guida legata ai sistemi di gestione e modelli organizzativi da attuarsi nelle piccole imprese del settore artigianato è corredata da un manuale tecnico. Tenete conto che ci sono tre anni di lavoro e sperimentazione e 30 anni di esperienza messi insieme tutti i coordinatori del gruppo che ho avuto il piacere di dirigere. Nei dettagli la guida sarà presentata il 6 aprile a Venezia nel corso di un convegno a Ca' Foscari.